A monte a 204 milioni e 900 mila euro il Made in Puglia nel mercato britannico. Il dato emerge da un'elaborazione del Centro Studi di Confartigionato Imprese Puglia che in una nota sottolinea i rischi per le imprese pugliesi, commentando il risultato del referendum sulla Brexit e la conseguente uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. In particolare le aziende della provincia di Bari esportano beni per un valore di 146,6 milioni di euro, pari al 71,5% del totale dell'export pugliese. Seguono le province di Foggia con 23,8 milioni, Barletta-Andria-Trani con 22,8 milioni, Lecce con 6 milioni, Brindisi con 3,8 milioni. Chiude Taranto, già parecchio ridimensionata a causa dell'involuzione dell'Ilva, con 1,9 milioni. L'elaborazione del nostro Centro Studi regionale, commenta Francesco Sgherza, presidente di Confartigionato Imprese Puglia, ci dà l'idea di quanto il Regno Unito rappresenti un partner commerciale importante per le nostre imprese. Purtroppo le conseguenze dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sono tutte da valutare. Non mi riferisco unicamente alle ripercussioni sui mercati finanziari, ma anche a quelle sull'economia reale, visto l'indebolimento di quell'area di libero scambio che ha rappresentato il vero punto di partenza dell'Europa per come la conosciamo oggi. Il rischio, spiega Sgherza, è quello di tornare indietro di decenni, passando da una situazione di libera circolazione di merci e lavoratori ad una frattura profonda, fatta di chiusura dei mercati e ripristino di dazi e tariffe, sia da una parte che dall'altra. Sono fiducioso, continua il presidente, che l'Europa sarà in grado di trovare le modalità necessarie a gestire e minimizzare le ricadute di quanto si è verificato. Tuttavia, per evitare un catastrofico effetto domino, è fondamentale indagare i motivi che hanno condotto uno Stato membro così importante a considerare la strada dell'abbandono dell'Unione Europea.